A un certo momento ci stava un bambino che era un disastro a scuola, non andava bene a nessuna materia. Un giorno arriva una telefonata a casa del padre, dalla scuola, e dice «Lei è il padre di Pasquale!» Ha detto «Sì, sono io!» Dice «Guarda, ci venga a trovare, venga a scuola perché abbiamo scoperto che suo figlio c'è una materia dove va benissimo, è un maestro in quella materia». Dice «Scusa, ma lo sai con chi stai parlando? Io sono il padre di Pasquale!» Dice «Sì, proprio con lei vogliamo parlare, vengo!» Va bene, appena posso vengo a scuola. Arriva a scuola, va dal professore, fa il professore, guarda, gli ha detto «Suo figlio va male a tutte le materie, però ha il disegno, è un genio!» L'altro giorno ha disegnato una mosca sulla lavagna, ma così vera, così vera, guarda cosa mi sono fatto, per ammazzarla mi sono rovinato tutta la mano. E tu non sai che cazzo mi ha fatto a me, ma ha disegnato sopra la stufa un gelato, un gelato, così vero, così vero, guarda che cazzo mi ha successo! Grazie! Grazie!